In questa presentazione vedremo alcune altre funzionalità fornite dall'applicativo CAD abbinato al programma GeoCAD. Per la spiegazione dell'abbinamento tra il programma GeoCAD e il CAD da utilizzare ed anche per una precedente serie di funzionalità CAD fornite dal programma con l'applicativo si rimanda alla visione delle precedenti presentazioni. In questa presentazione esamineremo un caso abbastanza frequente di rilievi nei quali i punti si trovano ad una distanza molto ravvicinata, il caso ad esempio quando si rilevano fabbricati su corti eccetera in cui i punti sono effettivamente molto ravvicinati. In questi casi è necessario ovviamente aver inserito nel programma il rilievo di partenza e poi una volta fatto questo basta attivare dal menu contestuale l'opzione disegno CAD. Questa opzione sappiamo va sempre a lanciare il CAD abbinato al programma, in questo caso lancia il BriseCAD che è il clone di AutoCAD fornito da Tecnobit e qui vediamo che allora sul BriseCAD viene generato direttamente il disegno del rilievo. Dicevamo in questo caso che i punti si trovano a distanze molto ravvicinate per cui il problema in questi casi è di andare a riconoscerli. Se ad esempio noi ingrandiamo questi tre punti noi effettivamente non siamo in grado di andare a riconoscere queste tre crocettine per cui se noi anche andassimo a spostare i testi dei punti vedete io seleziono un testo ma poi non riesco a stabilire a quali di questi tre punti corrisponde. Quindi il programma Geocad sempre nel menu applicativo di topografia ha un'opzione molto interessante che è questo associa nomi punti mediante la quale diciamo io lanciando questa opzione viene fatto uno scandaglio dell'intero rilievo e diciamo tutti i testi vengono agganciati ai relativi punti. Questa è un'operazione ovviamente che richiede alcuni secondi perché i punti in questo caso sono effettivamente molti però diciamo che una volta terminato questa scansione automatica adesso vedremo che andando a selezionare il testo di un punto si accende anche la relativa crocettina quindi il simbolo. Io so esattamente che il 147 è esattamente questo punto così come se clicco 146 so che è tra queste due crocettine molto ravvicinate vedo che è esattamente questa e invece se clicco il 205 vedo che è esattamente questa. Quindi diciamo ho la possibilità di andare a riconoscere i punti ciò non toglie che però se io adesso volessi dire benissimo il 205 è questo più interno mentre il 146 è questo più a destra posso comunque prendere il testo con le grip e andare a posizionarlo in ogni caso separatamente dal simbolo. Quindi vedete io posso sistemare i testi ma avendo esattamente la cognizione di quali sono i punti corrispondenti. Questa funzionalità poi serve molto anche per un'altra funzione prevista dal menu di topografia che è quella che permette addirittura di spostare i punti. Vedete io adesso attivo questa funzione sposta punti e in questo caso vedete che per me è sufficiente non avendo ben la certezza di quali siano i punti medianti il rispettivo simbolo io clicco in realtà il testo e vedete che in realtà il programma ha agganciato la crocettina corrispondente. Vedete che ha agganciato delle due quella corretta e quindi adesso posso andare a spostare per assurdo questo punto in una posizione completamente differente che è questa qui. Questa operazione poi la posso anche sviluppare con le stazioni vedete io qui posso addirittura andare a selezionare diciamo sempre il comando sposta punti vado a cliccare sul testo la 300 però vedete che il programma ha agganciato esattamente la stazione. E la stazione diciamo posso portare a una posizione completamente diversa da prima quindi sposto la stazione in questa nuova posizione qui. Naturalmente tutto questo lavoro che faccio graficamente nel disegno poi viene automaticamente importato nel rilievo Geocat. Adesso qui siamo tornati nel programma Geocat vedete che qui se andiamo diciamo sulla posizione in cui troviamo le stazioni la stazione 300 ad esempio qui è sufficiente attivare il comando che abbiamo visto nella prima presentazione che riguardava le funzionalità dell'applicativo CAD. Il comando si chiama importa punti CAD e però prima di importare i punti vedete il programma mi chiede se sono sicuro di sovrascrivere il punto 146 che abbiamo spostato. Io dico di sì poi mi viene anche chiesto se sono sicuro di sovrascrivere tutte le occorrenze del punto 300. Le dico di sì e di fatti vedete che adesso per quanto riguarda questa riga che contiene la 300 battuta dalla 200 il programma ha messo la sigla IC cioè importato da CAD. perché questo mi indica che la stazione 300 non ha più le sue letture originarie ma ha le letture relative alla sua nuova posizione. Questo diciamo si riflette anche sui punti battuti esattamente dalla stazione 300 vedete anche questi punti hanno IC così come se torniamo su vedremo che la sigla IC ci sarà anche sul punto 146 che è il punto che abbiamo spostato. In questo modo diciamo adesso noi possiamo vedete tornare sul disegno CAD lo chiudiamo senza salvare perché avendo adesso aggiornato rilievo con questi punti spostati il punto 146 e la stazione 300 spostata possiamo tranquillamente ricreare il disegno CAD e nel nuovo disegno ricreato vedremo la nuova situazione. Vediamo infatti che il punto 146 è in questa posizione vediamo che la stazione 300 ha assunto questa nuova posizione mentre tutto il resto del rilievo è rimasto perfettamente nella posizione originaria e questa è una funzionalità che in genere può servire quando poi si devono creare stazioni o punti nuovi da picchettare in campagna.